Perché vi deve fare un piccolo annuncio, vi deve dare qualche consiglio. Ci vediamo tra poco. Siamo a Viva Napoli, amici ascoltatori, ma io voglio dire anche Viva la Millionaire Card, perché è un'idea straordinaria che è venuta in mente a un giovane imprenditore che è stato anche parecchi anni negli Stati Uniti ed è lì che ha avuto l'idea della famosa Millionaire Card, perché negli Stati Uniti è già un'idea che si è sviluppata e ha avuto un enorme successo. Ma già in Italia sta avendo molto successo, pensate che ci sono già 300.000 persone in Italia che hanno la Millionaire Card. Le Millionaire Card sono due, tra l'altro attenzione, non è una carta di credito, ma una carta di accredito, cioè con la carta di credito vi mandano il conto alla fine del mese, con la carta di accredito che cosa vi fanno? Quando voi avete pagato, voi consegnate la vostra card e vi daranno un determinato numero di punti. Questi punti praticamente sono denaro sonante, denaro liquido, perché quando avrete deciso di sfruttare questi punti, questo denaro che vi hanno messo sulla vostra card in più, voi non avete altro che da prendere il catalogo che qua vedete, che vi verrà dato quando vi iscriverete a questa grande organizzazione e qui troverete tutti i prodotti di tutti i generi, prodotti a non finire. Per adesso qui ce n'è qualche centinaio, ma continuano ad aumentare, perché dovete sapere, continuano ad aumentare anche i negozi che sono entrati in questo circuito dove voi potrete andare a comprare quello che desiderate con questa card. Ecco, vedete, questo esercizio aderisce al Millionaire Card e quindi quando voi vedete il negozio con quello potete entrare così come ci sono i negozi che hanno l'insegna della carta di credito. Allora, come dicevo, ci sono due card, una costa 10.000 lire, pensate, solo 10.000 lire, una cifra irrisoria. Con questa voi potete comprare già con uno sconto, poi potete scegliere se volete uno sconto aggiuntivo, potete scegliere se volete invece i punti per comprare poi gli altri oggetti che sono a disposizione. Mentre invece la Millionaire VIP Card, che costa 198.000 lire, ma che vale veramente la pena anche questa, voi direte, ma come mai costa tanto di più? Per forza, perché chissà quante volte nell'ambito di un anno voi vi troverete in emergenza. Per esempio, se dovete fare un'assicurazione, ecco, ci sono delle assicurazioni che aderiscono alla Millionaire Card e naturalmente vi faranno anche delle proposte molto interessanti. Questa è una card che dovrete sempre tenere in tasca per qualunque emergenza e continuano ad aumentare le cose che vengono offerte a quelli che compreranno queste card. Allora, per avere questa card potete chiamare al numero verde che appare sullo schermo in questo momento, vi daranno tante altre spiegazioni oltre a quelle che vi sto dando io e se volete addirittura verranno a casa vostra delle persone a spiegarvi ancora meglio e vi porteranno magari direttamente la card. Pensate che ci sono 24.000 persone, pensate com'è grande questa organizzazione, 24.000 persone che stanno girando tutta l'Italia e vengono nelle vostre case per darvi maggiori delucidazioni di quelle che vi sto dando io in questo momento. Quindi, chiamate subito a questo numero verde e consiglierei anche ai negozianti che vogliono entrare in questo circuito di chiamare il numero verde perché anche qui in questo caso manderanno qualcuno nel vostro negozio per spiegarvi cosa dovete fare, come funziona la casa e anche voi la cosa come funziona e anche voi entrerete a far parte di questa grande famiglia del millionaire card. Ricordatevi questo slogan, è molto importante, che più spendete più guadagnerete, grazie a questa fantastica idea della millionaire card. Chiamate subito! Il piacere della pasta, una bontà senza confronto, presenta... Zoratino! Io ho una leggera... Forse perché... Non ci credete... Madame voglia il padre... Siete stanchi dalla solita tv? E allora scendete tutti in piazza perché dal 17 maggio l'Italia si desta, ogni paese in festa e lo spettacolo si trasferisce nelle piazze. Giochi, canti e balli e tante, tante sorprese di cui proprio voi sarete protagonisti. Da domani Alba Parietti e Gerry Scotti vi aspettano, tutti in piazza, alle 20.40, su Canale 5. Cosa c'è di più delicato di una piuma sulla pelle? Questa piuma, quella di nuovo Vernel Balsam, non ha coloranti ed è dermatologicamente testato. La provi. Che morbidezza, che delicatezza, proprio come una piuma sulla pelle. Vernel Balsam, morbidezza e delicatezza imbattibile. Avete notato che quello che ci piace fare non si può fare? Dire parolacce! Caccapulo, caccapulo, caccapulo! Grida! Saltare sui letti! Ma adesso c'è una cosa che ci piacerà fare e nessuno ci potrà fermare. Bere la nuova Pepsi Boom! Siete svegli? Pepsi Boom! Senza caffeina! Coppa del nonno Nessuno come te Da ViciNet un'altra eccezionale novità ViciNet Candeggina Gel La prima candeggina speciale per il WC Mentre la vostra candeggina scivola via ViciNet Candeggina Gel arriva sotto i bordi Aderisce alle pareti Rimuove i germi E sbianca fino in fondo ViciNet Candeggina Gel Speciale per il WC Nuova Ibiza Shake A lire 15.976.000 Oppure eccezionale finanziamento su tutta la gamma Una tira l'altra Sono le nuove salviettine Fresh & Clean alla camomilla Con un nuovo sistema di estrazione Adesso basta una mano sola Perché una salviettina tira l'altra Come tante carezze Nuove salviettine Fresh & Clean Oggi c'è una nuova tecnica Che capovolge l'idea del benessere E ci dà un gusto tutto nuovo Da Filadelfia Fresco Vivo Un formaggio con i fermenti lattici vivi Filadelfia Fresco Vivo Il benessere dal vivo Filadelfia Fresco Vivo tre punti Light, due passi avanti La fantasia è solo tre Filadelfia un punto E anche tre A 60 Vinci Servi in tavola Il basuglio in Silver Plate Filadelfia Unico anche nel regalo 7 chili in 7 giorni Fantascienza Per dimagrire Non ci vuole fantascienza Ci vuole Dimanel Con Dimanel è una dieta equilibrata Assorbi meno calorie E perdi peso Dimanel Il piacere di dimagrire Questa settimana in esclusiva con Donna Moderna Una colonia classica e raffinata per lui Che piace anche a lei Donna Moderna In edicola E carne E carne mo E carne mon E carne montana Montana Torna la carne che piaceva davvero Mer buffe Grazie No 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 Grazie.